salve a tutti ragazzi e ragazze stamattina abbiamo devo guardare qui stamattina abbiamo un ospite e ci tengo a presentarvelo con le dovute maniere signori e signori vi presento xina lei è xina la figlia di chicca ve la ricordate come la piccola 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 ciao 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 a tutti io sono lei è una mordicchiona saluta forza saluto buongiorno buongiorno vi annuso eh occhio che vi annuso tutti ho detto buongiorno salutatemi si è già scocciata vuoi scendere no vuole mordermi le dita allora fai così fai così ciao 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 che male che fa già questi canini affilatissimi buongiorno dai saluta manda un bacio dai che ti lascio andare vuoi scendere no non voglio scendere mi piace le care allora xina è la figlia di chicca adesso ha compiuto due mesi guardate quante ciccionetta quante ciccionetta eccola che non vuole scendere ma prima o poi dovrà scendere è di una tenerezza infinita veramente allora dicevamo di eccola qua è più forte di lei non riesce a stare lontana dai riflettori io xina principessa guerriera ciao ciao oh si tanti bacetti lei vi manda tanti bacetti non è così tenera come sembra è di un monellino furbacchiona guardate come sta guardate come sta la furbacchiona perché sa che io mi sciolgo quando lei sta così balla il mio amore allora stamattina mi vedete in veste casalinga perché cos'è c'è perché ho fatto degli stampi però erano pochi ho detto ma no non lo faccio il video poi ho pensato approfittiamone della pausa caffè così oltre a far vedere i nuovi stampi che ho creato con la gomma con la nuova gomma siliconica perché ne sto provando un'altra gentilmente inviata oh aspettate scusate olè e ne sto provando un'altra che ha un rapporto differente e anche una durezza differente per cui approfittando della mia pausa caffè e ne volevo approfittare per farvi vedere quanto è cresciuta chicca adesso giro la videocamera e vi faccio vedere i nuovi stampi che ho fatto con la nuova gomma siliconica allora eccoci qua questi sono tutti gli stampi che ho fatto con la nuova gomma siliconica e adesso vi faccio vedere che cosa ho fatto allora praticamente questa è la al 20 le altre volte ho sempre usato la l 10 che era molto 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 morbida va benissimo per carità però siccome capita che delle volte devo spostare proprio gli stampi e si li piegano perché sono morbidissimi allora ho pensato di provare questa allora vediamo se prende tutti i dettagli come la al 10 suppongo di sì settate allora vi posso dire che ci mette meno di 24 ore ad asciugare vabbè forse perché qui in sardegna c'è caldo c'è un caldo torrido infatti io tutto spalancato e aspettate ecco allora sì i dettagli li ha presi tutti poi vabbè ovviamente da rifinire qui da togliere questo ecco guardate già posso come potete vedere si è morbido ma non morbidissimo cioè non si piega ai lati e di questo ne sono molto 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 contenta ok ovviamente sto adottando la tecnica della plastilina e dei coppa pasta poi l'altra stellina togliamo la plastilina togliamo la gomma la coppa pasta o da tagliabiscotti dipende ecco allora devo vedere no allora a guardarlo così sembra che abbia preso tutti i dettagli però ovviamente dovrò fare una colata di resina per vedere se se è così comunque il cabochon era questo siccome intenzione di fare diversi orecchini così aspettate che forse se i miei metti a fuoco bravissimo no allora volevo farvi vedere solo questo cabochon di questa damina e anche qui ci siamo poi anche questo l'ho fatto con la plastilina adesso lo tiriamo fuori dal coppa pasta e questo è un altro cabochon guardate che meraviglia e questo è anche profumato allora adesso vi spiego in un video di erika forse erika kawaii avevo visto che delle creative le avevano inviato dei degli stampi colorati e profumati ho detto vabbè tanto a me non c'è nessuno che me li manda me li devo sempre fare da sola per cui ho voluto provare se con i con le essenze per i saponi riuscivo a profumare anche le gli stampi in silicone allora da premettere questa gomma siliconica è in odore e ha preso proprio il profumo dell'essenza io vi posso assicurare che ha un profumo di fragola che è qualcosa di pazzesco voi dite ma come giallo dovevi mettere l'essenza al limone sì ma non ce l'avevo per cui beccatevi l'essenza alla fragola comunque è buonissimo non è invadente come profumo ma è buonissimo per chi fosse interessato ad avere questi stampi profumati mi scriva pure sotto nei commenti se vuole gli stampi profumati comunque allora la al 10 è ottima come gomma siliconica perché vedo che i dettagli li ha presi egregiamente sembra che sia venuta una bolla no è il buchino del della foglia perfetto sì ok e anche qui ci siamo ultimo stampo creato con la plastilina come base e aspettate che ci da erbolina ecco a posto allora o sì qui ho provato a vedere se riuscivo a fare questo ciondolo perché ho questo ciondolo in argento e in pratica ovviamente questo non verrà mai perché le asole longitudinali non vengono mai però guardate la lucentezza della pietra che cosa meravigliosa poi ho voluto provare a vedere se riuscivo a fare i miei gufetti adorati e devo dire che anche questo è uno spettacolo in quanto a dettagli bellissimo bellissimo e poi volevo provare a vedere se riuscivo a fare dei distanziatori homemade cioè prendendo questi come fermi prendendo questi come esempio da ho provato a fare lo stampo poi coloro la resina e invece di averli tutti in argento li avrò in resina colorata e questa cosa mi piace mi piace mi piace poi anche questo sembra venuto bene e sono veramente soddisfatta di questa gomma siliconica questo ovviamente poi lo ritaglierò però veramente non è è morbida ma non è molle sono contenta poi vediamo un po qui ho usato sempre i miei famosi contenitori di gelato anche chi che d'accordo ma chi ca aiuto exina orecchietta aspettate tiro fuori il lo stampo e arrivo chica che su signore cos'è successo qui allora voi non ci crederete guardate cosa fa toxina chicca allora aspettate guardate come l'ha accoggiata l'ha fatta su della lana non ci posso credere torno subito ragazze ok dopo aver trascorso 10 minuti a liberare chi o cosa stai toccando tu a liberare chicca dalla dalla ceniglia e a recuperare questa piccola peste che mi sta sfuggendo di mano vi volevo mostrare gli ultimi caboscio che ho fatto scendi che monella allora ho fatto dove è finito me lo sono perso ah no ho fatto questa fatina dei boschi e devo dire che è venuta egregiamente e quest'altro quest'altro caboscio nel quale non ricordo nulla ma è normale perché avendoli fatti ieri e avendo io la memoria questa damina ed è venuto anche il buco per infilare l'anellino per poi farne un ciondolo bello sono contenta allora poi ovviamente questo va rifinito ma non più di tanto guardate è già belle che pronto per per essere ho appreso anche guardate il marchio del della plastica del gelato che bello ok poi ultimo è questo è uno spettacolo perché in pratica ho voluto riprodurre questo ferma fular allora è a forma di nodo marinaro aspettate che eccolo qua e vediamo se ha preso anche i dettagli allora ci siamo ci siamo quasi sì ce la possiamo fare ok non abbiate paura quando usate la gomma siliconica a tirare tanto viene via giusto il superfluo il che carino sì e vediamo un po dovrei riuscire a farcela sì perfetto ok allora il ferma fular è questo che ha al suo interno questo fiore con questa farfalla allora è pirografato è per cui non è tantissimo diciamo lo spazio tra la superficie e l'intaglio però guardate non so se riesco a farvelo vedere perché veramente legge eccolo forse riuscite a vederlo così guardate cioè questa gomma siliconica è fantastica cioè è riuscita a prendere quel minimo di intaglio pirografato bellissima no veramente sono molto 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 soddisfatta di questa gomma siliconica al 20 e veramente adesso vabbè la smetto di tirare gomma siliconica come se non ci fossero domani questo fatto con i glitter fatto con la resina colorata veramente viene un ferma un fermo fu la veramente fantastico ok bene vado a finire di di fare il mio caffè e di fare di bere il mio caffè nel frattempo sono contenta di avervi fatto vedere quanto è cresciuta quella birbante di xina niente ci vediamo al prossimo video dove vi mostrerò cosa ho fatto con questi stampi un bacione a tutti buona giornata ciao